Giuseppe Moscatelli, un nome che forse a molti non dirà un granché, ma se si parla di Moschino allora potranno ritornare alla memoria i raccolti di qualche nonno, mentre rispolverava i ricordi della Matelica nella Seconda Guerra Mondiale e nella Resistenza. Una persona diventata un personaggio, ed il protagonista del libro che il professor Igino Colonnelli ha presentato venerdì 18 nell'altro del Palazzo Vescovile. Un libro che intreccia storia e letteratura, approfondimenti e repertori fotografici, su un anarchico pacifista come è stato da molti definito. Un uomo la cui gran umanità ha reso speciale al punto da ispirare lo scrittore Libero Bigiaretti nell'assessura del suo Carlone. Il libro è nato quasi a caso dalla mia attività di presidente dell'AMPI di Matelica. Cercavo notizie su chi durante il fascismo avesse saputo mantenersi coerente con gli ideali di libertà e avesse saputo in qualche modo schierarsi, sia pure in maniera misurata e controllata, contro il fascismo dominante. Mi hanno indicato alcune persone il nome di Giuseppe Moscatelli Moschino. Da lì è nata poi una passione che mi ha portato ad indagare tutta la sua vita. Presenti in sala, oltre all'autore, Giovanni Ciccolini per l'agli editrice ed i familiari dell'indimenticato Moschino.